Riprendersi il San Nicola, dove sin qui il Bari ha vinto una sola partita su sei tentativi in campionato e interrompere un digiuno di vittorie che dura dall'8 ottobre a Venezia, sono le due stelle polari che hanno guidato la squadra allenata da Michele Mignani alla ripresa dei lavori in vista della sfida di domenica 4 dicembre contro il Pisa, squadra che arriverà in Puglia forte di 16 punti ottenuti nelle ultime otto partite di campionato, quelle della gestione d'Angelo tornato in panchina al posto di Rolando Maran. Oltre a che dire è impegnato in catarco la nazionale marocchina e Ricci out per una lesione muscolare al gemello della gamba sinistra che lo terrà fuori fino a fine 2022. Mignani non ha avuto a disposizione Seter che ha svolto il lavoro precauzionale in palestra. Proprio sull'attaccante colombiano alla pari di Schidler e Salcedo saranno puntati in settimana ai fari di un gruppo che da 50 giorni a questa parte segna con il contagocce. Lo rivelano infatti i numeri dei 29 gol stagionali segnati dal Bari, ben 23. Sono firmati da tre soli giocatori, Walid Kedira a quota 14, Mirko Antenucci con 5 e Michael Foloruncio a 4. Il secondo non segna dall'8 ottobre. Folo, testato anche da laterale destro nel 3-4-2-1, abbozzato nel primo tempo di Como dalla settimana precedente contro il Brescia. Kedira dal 5 novembre su rigore al Benevento. Frenato il loro cammino, la prepotenza del Bari sotto rete si è quasi arrestata. Non a caso i biancorossi sono passati da una media superiore ai due gol segnati per partita fino all'ottava giornata allo 0,67 per gara dal nono turno in poi. Dal 15 ottobre il gruppo di Mignani ha realizzato appena 4 gol, tutti negli ultimi tre turni di campionato, mentre il trend dei centri al passivo è rimasto quasi inalterato. Dove intervenire allora per cambiare rotta in vista di un mese di dicembre con ben 5 partiti in agenda? Lecito pensare che Mignani intervenga sulla tre quarti dove Botta ha dimostrato di essere un uomo chiave da subentrante contro Suttirol I e Como poi. I rientri di Maita dal turno di squalifica e di Capitan di Cesare, in gruppo al martedì alla pari di Mazzotta, restituiranno leadership a una squadra che a Como è apparsa sin troppo timida, in particolare nel primo tempo. Dicembre dovrà allora essere il mese dell'appello per i volti nuovi che sin qui non hanno inciso. Detto degli attaccanti, a sinistra Dorvalli in difesa sarà chiamato a dimostrare di poter essere un titolare aggiunto. Altri, da Zuzek a Benedetti fino a Cangiano, dovranno attendere il proprio turno e rispondere presente all'appello, perché da un digiuno di vittorie si esce solo da gruppo, proprio la forza del Bari nella prima parte di stagione. Intanto, mercoledì, sarà tempo di tornare ad ascoltare la voce del direttore sportivo Ciro Polito, protagonista di una conferenza stampa convocata alle 16.30. Grazie a tutti.